per il quale provavo questa forte nostalgia e quindi decisi che avrei potuto scrivere e raccontare di questo periodo dal punto di vista di un bambino, decisi quindi di raccontare la mia infanzia proprio questo stesso periodo dagli occhi di me bambino. Ma prima di cominciare mi sono fatto un auto a monimento, mi sono detto devo assolutamente fermarmi nel momento in cui si conclude l'età dell'innocenza, ovviamente a seconda della precocità delle persone questa età si può situare in periodi diversi, per me dai 9 agli undici anni con questa età coincide la fine dell'innocenza, perché secondo me dopo gli undici anni l'innocenza è bella e che è finita. As usual, and since you are interested in the process of creativity, writing and so on, which is why we're here, something remarkable happened. I somehow entered that period when I felt I could speak and write honestly through the eyes of a child and I remember writing the first two or three chapters and suddenly it vanished, completely vanished. I found that I had lost that, it was like a kind of aperture in which I could transpose myself into that phase when I actually saw things as a child. After two or three chapters, it just disappeared. And so this thing, this book we're talking about vanished for yet another three years or so. E come sempre, visto che siamo tutti qui è perché siamo interessati a quello che è il processo della creatività, in questo caso della scrittura, e come spesso accade nel processo della creatività, mi accadde qualcosa di singolare, e cioè mi resi conto ad un certo punto che non potevo più scrivere, non potevo più parlare con onestà attraverso gli occhi di un bambino. Avevo già stilato tre o quattro capitoli e poi improvvisamente questa capacità svanì. Avevo perso la capacità di traspormi appunto nella figura del bambino. E questo libro quindi scomparve di nuovo per altri tre anni. No, this is what even I find very, very interesting. Some years later, I was ready to continue. I mean, again, I felt I'd recaptured that period. So I looked for the chapters. At that time, I was busy experimenting with a computer. You know, everybody now uses a computer, an iPod, and so on. During that period, it was an exotic piece of work. And I was considered myself very interested in scientific, you know, these technological discoveries. So I was using this computer. But when I wanted to come back to Aki, I could not find the chapters. So I had to start all over again. And I began from scratch and rewrote those chapters. And one thing that persino a me sembra molto molto interessante è il fatto, è molto importante, è il fatto che alcuni anni dopo mi sono sentito nuovamente pronto a fare questo stesso percorso, a ricominciare il processo. Mi sentivo che potevo, ero in grado di ricatturare quell'epoca che mi interessava ricatturare. E quindi cosa ho fatto? Ho iniziato la ricerca di questi capitoli che avevo già scritto. E in quel periodo mi interessavo, diciamo così, di esperimenti con il computer. Diciamo che il computer allora era una cosa ancora un po' esotica, poco diffusa, ma io che ho sempre avuto un interesse per le scoperte tecnologiche, cercavo insomma di capirci qualcosa. E improvvisamente nell'archivio che stavo consultando non ho più ritrovato quei capitoli che avevo scritto anni addietro. E quindi ho dovuto ricominciare da zero e ho riscritto tutto da capo. Now, this is what is interesting. So I wrote, I continued, recapturing. I moved beyond the first, those three chapters, I wrote several chapters. And towards the end of the book, somewhere in the middle, I found the missing chapters which I had rewritten. And you know, I compared those first chapters with the new chapters I had rewritten. I'm telling you almost word for word. Almost word for word. The three chapters. I found that very, very remarkable. And I wonder whether other writers have had that kind of experience. E quindi ricominciai a scrivere e ad un certo punto andai oltre questi tre capitoli che avevo già scritto in precedenza. E poi verso la fine del libro, diciamo più o meno a metà, che cosa successe? Ritrovai i capitoli che avevo perso prima e inevitabilmente feci il raffronto tra quello che avevo scritto prima e quello che avevo scritto successivamente. Incredibile, parola per parola, praticamente identici. Ritengo che questa sia una cosa piuttosto singolare e mi chiedo se sia successa anche ad altri scrittori. So, I don't care what anybody says, but I think those three chapters must be the most sincere three chapters of anything I've ever written in my life. And must be authentic in some way or the other that escapes me. E non mi interessa che cosa dicano gli altri, ma sicuramente quelli sono i capitoli più sinceri e onesti e veritieri che io abbia mai scritto in tutta la mia vita. E questa è la prima fase in cui lui scrive appunto a che gli anni dell'infanzia. A proposito di questa sua memoria, non mi sorprende quello che ha raccontato perché deve avere una memoria incredibilmente prodigiosa, tanto che racconta che a un certo punto ricostruisce alcuni anni dopo in una polemica con un presidente nigeriano esattamente le parole che si erano dette in quell'incontro, i gesti che avevano fatti, addirittura i silenzi che c'erano stati e il presidente non poteva, nonostante sosteneva altre teorie, smentirlo. Quindi questo rafforza questo senso della memoria. Ecco, qual è il suo rapporto con la memoria? In generale, voglio aggiungere una cosa, personalmente se dovessi dare un titolo all'intera quadrilogia della sua autobiografia, direi che è alla ricerca del tempo vissuto. Lui non ha mai perduto tempo, sembra, ma l'ha semplicemente vissuto e la memoria mi pare che abbia costituito un elemento fondamentale per riportare l'attenzione sulle cose che aveva vissuto con grande attenzione. Sì, a memoria è una strana acquisizione, o non lo so, la genetica impronte in alcune humani. Io ho scoperto, per esempio, che ho una memoria di un memoria, non molto anni fa, e abbiamo parlato, in fact, di anche, anche, e che è quando ho scoperto che non all'interno, non all'interno, non all'interno. I thought it was the most natural thing in the world, but I was discussing with other writers and I found that they found it extraordinary that I could recollect certain things in childhood, you know, in such detail. I mean, obviously there are one or two details in which I checked with my mother, she was alive at the time. What was the name of that woman, by the way, you sat with on such and such a day when you cooked this particular food and we came for second helpings and so on. And then she said, how do you remember all of that? You know, I might lose the detail here and there, but I have that composite picture. And I found it strange. I always assumed that every human being had it until some years ago. So it's, but then again, memory is selective. There are things which I think one represses deliberately. Deliberate is the wrong word. Subconsciously, you just don't want to remember that. But generally, I find that memory is such an integral part of of my existence. It's even become a kind of political problem for me because I always accuse my own, I try, let's put it this way that I try to understand the failure of society, of politicians, of leaders, of dramatis personae in events and omniscience. I would say the trouble is that people suffer from amnesia, that they don't remember things and other that and or they link, they fail to link events that even when they recollect something in the past, it's like there has been a complete that they do not understand that it's related to what is happening right now or that it is certain to be a pointer to what is about to happen in the future. And I think this has been one of my, the problems I have politically with my society, that I fail to understand the failure of other people, to relate something that happened in the past to what is happening now. It's a very acute problem for me because I can't understand other people failing to have that. Diciamo che la memoria è una strana acquisizione, una strana dotazione, imprinting genetico dell'essere umano. E io ho scoperto di avere una memoria fotografica pochi anni fa, perché mi trovavo a discutere con alcuni autori, alcuni scrittori, parlavamo di a che, e quello che io davo per scontato, pensavo che fosse naturale, in realtà ho scoperto che per loro era una dot, una capacità straordinaria. E c'è quella, ad esempio, di ricordarsi nei minimi dettagli quello che era accaduto durante, ad esempio, la mia infanzia. Ammetto di aver chiesto due o tre cose a mia madre per avere più qualche raguaglio. Quando era ancora in vita, le ho chiesto, ma ti ricordi quel giorno che eri seduta lì con quella donna e stavi cucinando quella determinata pietanza e io ho preso due volte dal piatto per mangiare, eccetera, eccetera. E lei mi ha detto, ma come fai a ricordarti una cosa del genere? E in effetti, quando mi è stato detto che non tutti avevano questa capacità, l'ho trovato molto strano. È solo da pochi anni che mi rendo conto che non tutti hanno questa capacità di ricordare. Va detto che, d'altra parte, la memoria è pur sempre selettiva e alcune cose una persona decide di reprimerle, magari inconsciamente. Ma, in generale, la memoria ha sempre svolto un ruolo importante, è stata parte integrante della mia esistenza e, in un certo senso, è diventato anche un problema di carattere politico per me. Perché, in effetti, io cerco di capire come tutto quello che è successo di negativo dal punto di vista della società, dei politici, dei leader e dei dramatis persone, il problema, secondo me, di tutti questi fallimenti a livello di società e di persona è dovuto al fatto che le persone spesso soffrono di amnesia. Quindi, o soffrono di amnesia e o non hanno la capacità di mettere insieme passato e presente. C'è una sorta di cesura che si crea per cui non si rendono conto che quello che è accaduto in passato magari ha relazioni col presente. Non capiscono che c'è un legame tra le cose oppure che quello che è accaduto in passato tende a dare indicazioni su quello che potrebbe accadere in futuro. E questo è diventato il mio problema politico nei miei rapporti con la società. E cioè, io non riesco a capire perché le persone non capiscono che ci sia un legame tra il passato, il presente e magari il futuro. Alessandra Di Maio, nel prezioso volumetto che dedica, destina ogni volta a un autore, in questo caso a Shoinka, cogliendo un nodo centrale della sua opera, dice che la strada che appare sempre nei suoi lavori, in prosa, in poesia, in teatro, è la metafora della vita e del percorso interiore che l'accompagna. Riprendo per dare un'idea di che cosa sia per lui la strada da quando era piccolo, un brano di Ache, gli anni dell'infanzia, quando a un certo punto il piccolo che era Uole si ritrova a seguire una banda musicale che è passata per il suo paese. La segue, letteralmente come seguendo il flauto magico, poi si perde, poi verrà riportato a casa da poliziotti che lo troveranno parecchi chilometri più in là. Avevo una strana sensazione. Ogni volta che veniva colpito il grande tamburo, mi sembrava che le vibrazioni mi entrassero nello stomaco, riecheggiassero attorno alle sue pareti, poi tornassero fuori per riunirsi al tamburo. Ascoltai ogni volta che veniva il rimbombo, scritto in corsivo, e lo sentii, e rimasi privo di dubbi. Ovviamente era il modo di fare del grande tamburo. Non avevo dubbi sul fatto che colpisse tutti allo stesso modo. Notai dei ragazzini che seguivano la banda, alcuni camminavano subito dietro, imitando la marcia dei poliziotti, altri camminavano sui fianchi, ai margini estremi della strada. Non parevano essere molto più grandi di me, e Dio presto mi unì a loro. Ecco, nessuno come lui rappresenta il viaggio, la migrazione, l'allontanamento della propria terra, l'attrazione della propria terra e l'appartenenza alla specie e all'essenza umana. La strada, in questo senso, da quando rappresenta una sua metafora e come l'ha vista scorrere e cambiare negli anni? I imagine that it became a metaphor of existence from the moment I ever wrote my first short story or wrote a playlet, a sketch to be performed by my friends, my siblings. I grew up with the magic of the road, the opening out to new experiences. And when I speak of the road, I'm not just talking about the road as contemporary, I'm talking about even the thin path through bushes in which the vegetation changes, in which you encounter totally different growths, in which sometimes snakes slither across the road and across the path, the bush path, I encounter snails marking their own, through their slime, marking their own road. Or you're talking about ants plotting their own road through the undergrowth and erupting underneath the house and so on. That sense of a thread, the thread of human communication, which seems to me one of the most primordial physical experiences that one encounters when one senses began to respond to sounds, to sight, to vision, to timbre, the very texture of existence, of phenomena. It's always been symbolized by that thread in various forms, and not just in urban society, but even within nature herself. So, let's begin from there. it's always been an open arrangement towards new experiences. But in strada I don't mean only big roads, that little roads, etc., etc., but also that creamy roads that see the trees through the arbusts, on where the vegetation changes constant. Where there are always plants that see the vegetation on the road, and maybe impedes the passage. Or it's the road that comes to the landmarks that are trying to cross the trees oppure le strade che vengono create dalle formiche che si insinuano nel sottobosco e poi sotto le case distruggendole quindi parlo proprio del filo della comunicazione umana e penso che la strada sia sempre stata il simbolo di quella che io chiamo l'esperienza fisica primordiale principale dell'essere umano questa apertura verso il mondo e cioè che si vive nel momento in cui il bambino percepisce e inizia a reagire all'ambiente esterno quando risponde magari al suono del tamburo quando si rende conto di quella che è la texture, la consistenza dei fenomeni della strada come appunto il tamburo tutta questa apertura verso il mondo è sempre stata simboleggiata dalla strada non solo nelle culture magari urbane, metropolitane ma anche dalla natura, questa idea della strada, del passaggio suono in un' ciudadano non ci si vengono, ma anche se in questo modo da quando si vengono a fare, metropolitane e non una riuscita che si vengono a la scuola che ci si vengono in un' radia di solito una strada di solito delle cose, una una suonfaglia di炒ullo di un pollo di palazzo di delle forme di livelli, la fotografia shop appears suddenly around the corner, la barba's shop appears around the corner, la sowing mistress' shop appears and it goes up and down, there's a cenotaph, and the road becomes a kind of language, a language of discovery as you're moving along. Then there's a school to one side, there's a steeple and there's a mosque, and all of this simply by following the road. In fact, apart from the timbre of the drumming in my stomach, what's left, the major thing is just this discovery, just discovery, one of the finds of a compound, having been looking over the wall, seeing a road disappearing nowhere, just vanishing. but it's there outside the compound. And then you skip into it and you start following the band, and it's not just a band you're following, the road is opening onto different kinds of houses, the palace, different forms of livelihood, the photographer's shop appears suddenly around the corner, the barber's shop appears around the corner, the sewing mistress' shop appears and it goes up and down, there's a cenotaph, and the road becomes a kind of language, a language of discovery as you're moving along. and then there's a school to one side, there's a steeple and there's a mosque, and all of this simply by following the road. In fact, apart from the timbre of the drumming in my stomach, what's left, the major thing is just this discovery. So what I would say is that this scene that I would describe this child that is the scene that is in the streets, that is the scene that we have described this child, that is the scene that is in the streets of the place, where he lives. ad abitare getta lo sguardo oltre il muro oltre la parete e vede questa strada che serpeggia che scompare nel nulla che non si sa dove porti e questo bambino inizia a seguire questa banda ma nel seguire la banda musicale non segue solo queste persone bensì inizia a vedere case diverse abitazioni diverse palazzi vite diverse vede il negozio del fotografo il barbiere vede le donne che cuciono vede un cenotafio e questa strada diventa una sorta di linguaggio della scoperta c'è una scuola poi c'è una moschea il tutto semplicemente seguendo questa strada quindi a parte questo frastuono questo rimbombo che sente con il rullio dei tamburi c'è anche questo senso della scoperta che è rimasto molto forte in me e che ho percepito fin da bambino e allora se si all'e che non è enough all'e che sono diventata in la mythologia di una società e hai scoperta che non solo è la scoperta che non solo è la scoperta che non solo è la scoperta la comunicazione della scoperta ma sono la scoperta presidenza della scoperta Ogun, for instance, the god of the road, then you have Eshu, who's the god of the crossroads, you know, the place of decision, the dialectician, as I like to call him, of reality, that moment when you realize that everything is not quite as straight as it is, okay, you've been in a lorry, you know, public transport in which the whole countryside opens up to you as a vehicle goes through, but then you come to the crossroads and a place of decision and there is even a deity in Yoruba mythology, which prescribes presides over the crossroads, that moment of choice where you can get lost, you can find, so it's something which became very interwoven with me in my life, even here in Pordenone, yesterday I strolled out and as usual got lost, even in small Pordenone, simply by taking the wrong turn when I thought I was on my way back to the hotel, and the road is always full of, you know, comic moments, tragic moments, profound questions, the road is a big question mark for me of existence, let's just summarize it that way. And if this was not enough, there is also the fact that there is an important mitology from the social point of view that is associated to the strada, and therefore the strada is not only as a physical tool of communication, but also the strada as a place where there are also different divinities, for example there is a divinities that represents the divinities of the crossroads, which represents the divinities of the crossroads, the crossroads, where we don't know which decision to take. Maybe, even now, if you are going with the public means, with a camion, you are going always straight, but then at a certain point there is a divinities of the crossroads, there is a divinities of the crossroads, which represents the moment of the choice. But the roads have always been part of my existence, and, for example, yesterday I was going to take a walk and I lost to Pordenone, in this small city, because I took the wrong city, so I've always seen the road as a place full of funny moments and tragic moments. Let's say that the road is the most important question of the most important question. By the way, that is not why La Strada is my favorite film. It's just a beautiful film, in its own right. And this is the reason why La Strada is my favorite film, it's just a beautiful film, already in its own. He has called it Shoinka the god Ogun, which is one of the divinities that he describes as the god of the frenetic road and of the creative solitude, of the poetical call and of the battle. It's one of the divinities that, with which, Volesho Inca, Volesho Inca, that he brought to Icoto, Ike Ogun, Grazie.